È il giorno della partenza della campagna vaccinazione a Iover 80 nell'ospedale dell'Aquila. L'ASLA ha studiato un sistema per le chiamate, una sorta di algoritmo. I primi sono gli anziani residenti a Monte Reale, nati tra il 1924 e il 1930. 10.000 le manifestazioni di interesse, ma perché non si è prenotato, saranno coinvolti i medici di base. Fondamentale però la collaborazione con i comuni per avere punti di somministrazione extra ospedale, perché parallelamente in ospedale devono proseguire le altre vaccinazioni. Stanno andando avanti infatti anche le ultime sanitarie e quelle alle forze dell'ordine. All'Aquila saranno attivate presto otto linee di somministrazione nel MUSP di via Ficara, che necessita di qualche lavoretto per l'adeguamento che si sta valutando con l'ufficio tecnico. E alle nostre spalle c'è quella struttura, l'ex asilo di via Ficara, che nelle prossime settimane sarà adeguata. Ci sono chiaramente dei piccoli lavoretti da fare per metterci delle linee di somministrazione e accelerare così tutta la campagna di vaccinazioni iniziata anche per gli ultraottantenni. E questo ex asilo è stato utilizzato di recente anche per l'effettuazione di screening alla popolazione scolastica. Se arriveranno quantitativi di vaccini più consistenti, si è pronti comunque a valutare altre sedi extra ospedaliere. Oggi si riescono a fare 500 vaccini al giorno, a pieno regime si arriverà anche a 1400-1500. E lunedì dovrebbero entrare in azione anche le 15 unità reperite dal bando di protezione civile come somministratori. Sì, già abbiamo individuato un centro extra ospedaliero perché per definizione questi centri vaccinali dovranno essere extra ospedalieri. A giorni, ci stiamo lavorando con l'ufficio tecnico, quindi partiremo a giorni sulla sede extra ospedaliera. Nel frattempo però siamo partiti su quella, su una sede intra ospedaliera ma con un percorso apposito, quindi assolutamente che non va a interferire con i percorsi assistenziali dell'ospedale. Questo ci permette intanto di iniziare perché il nostro obiettivo è non avere magazzino di vaccini. Di 22.000 circa ultra 80 anni della nostra provincia, circa 10.000 sono stati censiti da quella piattaforma. Capite bene che, quella è una manifestazione di interesse, ma capite bene che molti ultra 80 anni non sono in grado di iscriversi autonomamente. quindi noi siamo certi che in realtà poi la maggior parte degli ultra 80 anni dovranno essere vaccinati e quindi ci avvarremo sicuramente della collaborazione già manifestata dai medici di medicina generale che ciascuno dei quali ha all'interno dell'elenco dei propri assistiti tutto il numero di ultra 80 anni.